Sindaco, eravamo abituati fino a qualche notte fa ad accendere il motorino per attingere l'acqua che ci distribuisce Caltacqua. Da qualche ora a questa parte non è più così, perché lei ha emesso un'ordinanza in cui obbliga la società di gestione a fornire l'acqua soltanto nelle ore diurne. Sì, dalle sette del mattino alle undici di sera, alle ore ventitré. E questo perché è giusto che la notte è fatta per riposare e tra motorini e il pensiero di dover rifornirsi di questo prezioso liquido, molte gelesi hanno passato notte insonne. Bene, questo influisce sulla salute dei miei concittadini, di conseguenza non dobbiamo essere noi ad abituarci ai ritmi di Caltacqua, ma Caltacqua si deve abituare ai ritmi dell'uomo, che sono più naturali, nella notte è fatta per dormire e non per prendere l'acqua. Caltacqua ha già risposto alla sua ordinanza? Ma no, io avevo chiesto a Caltacqua di spiegarmi le motivazioni per cui c'erano queste erogazioni un po' strane. Non ho avuto risposta, di che ho fatto un'ordinanza ad imperio e ho detenuto a eseguirla. Ora si dovrà agire rapidamente per adeguarsi all'ordinanza. Comunque sono arrivate anche delle buone notizie, l'ASPA ha confermato che tutto il litorale gelese non dimostra di avere problemi, quindi è tutto balneabile, tranne alcuni punti dove ci sono delle ordinanze specifiche per altri motivi, però il mare di Gela risulta tutto abolito per le 22 km di costa. E quali sono i punti in cui non è balneabile? Sono normalmente vicino alle foci dei fiumi, dove ci sono dei depuratori a monte, proprio per una questione di tutela, per evitare che ci possano essere degli sversamenti non controllati. Ma sostanzialmente sono dei limiti a livello precauzionale, ma non perché vi sono degli inquinamenti irreali.